Si torna a giocare al Palascoppa domenica per il Valle Soverato, impegno casalingo contro Zambelli Orvieto, per un Soverato in salute, reduce dalla bella ed importante vittoria in trasferta con il Club Italia, siamo con Laura Frigo per commentare questa bella vittoria, una vittoria importante non solo per i tre punti ma perché conquistata su un campo ostico. Assolutamente sì, è stata una bella vittoria perché se posso essere franca non ce l'aspettavamo, non ci aspettavamo probabilmente un risultato pieno di tre punti perché sappiamo quanto il Club Italia ad oggi sia forte, ha delle giocatrici giovani che peccano di esperienza appunto perché sono giovani ma sono potenzialmente molto forti e quindi abbiamo faticato. Però diciamo che abbiamo ritrovato un gioco di gruppo che secondo me, parere personale, mancava da qualche partita, è stata una bella riscoperta. Esattamente, era proprio qui che volevo arrivare, tu sei stata sicuramente una delle protagoniste della gara ma si è avvertita, si è vista una prova di squadra, una prova di forza di tutta la squadra in tutti i fondamentali, indice del fatto che gradualmente questo affiatamento migliora. Sono d'accordo, l'abbiamo dimostrato domenica e spero che riusciremo a dimostrarlo anche in casa contro Orvieto nelle partite che seguiranno dopo. Ecco, paradossalmente in casa questo volle soverato, in questo avvio di stagione, forse ha faticato un po' di più, ci sono state tante diverse vittorie in rimonta, sicuramente, probabilmente anzi, si avverte questa ansia da risultato, forse più in casa che fuori, davanti a un pubblico amico, un pubblico molto caldo che vi dà una grande spinta ma al contempo vi carica anche di responsabilità. Sì, può essere che sia uno dei motivi, in realtà credo che siamo abituati ormai perché metà della squadra buona gioca qui da anni o ha giocato qui diversi anni, quindi sappiamo com'è l'ambiente in casa. Credo che sarebbe la ciliegina sulla torta riuscire comunque a fare dei bei risultati netti come è stato al Club Italia e giocare bene come abbiamo giocato al Club Italia in casa nostra perché secondo me vorrebbe dire davvero chiudere, per il momento, chiudere un cerchio. Coach Barbieri, domenica si torna al Palascoppa, si affronta una squadra come la Zambelli Orvieto che è una squadra sicuramente ben costruita, una partita sicuramente difficile come se lo sono state le altre sin qui, però un soverato in salute che ha confermato il suo buono stato di forma con una bella vittoria sabato scorso su un campostico come quello del Club Italia. Sì, sì, veniamo da un'ottima prestazione ma soprattutto anche perché abbiamo perso il primo set e poi dopo abbiamo giocato molto molto bene, devo dire anche le ragazze sono state brave a non innervosirsi, a rimanere tranquille, perciò veniamo sicuramente da un'ottima partita. Orvieto è un'ottima squadra, un pacchetto di tre attaccanti a mio avviso molto molto importanti che hanno anche esperienze in categorie superiori, perciò non sarà sicuramente facile, però contiamo di crescere ma di crescere anche in casa che forse rispetto a fuori è un paradosso, abbiamo fatto qualcosina di meno, perciò siamo convinti di poter partire forte e giocare molto duro per tutto il match anche qua a casa nostra. Alla luce dei risultati che sono maturati nell'ultimo turno, un soverato che potenzialmente potrebbe essere primo in classifica visto che le squadre di testa ancora devono osservare il proprio turno di riposo, quindi una partita che riveste un'ulteriore e maggiore importanza alla luce anche di quello che è accaduto domenica scorsa. Ma io penso che non dobbiamo pensare a questo perché lo stress è già molto quello del match, quello che dà il punto, quello che dà la situazione, perciò noi dobbiamo star concentrati su quello che è il gioco, su quello che sono gli avversari, quali sono le loro capacità e quali sono le armi che noi abbiamo. Poi dopo il campionato è ancora lungo, perciò dobbiamo rimanere molto sereni e molto concentrati nel match che dobbiamo affrontare e poi penseremo il match a seguire. Orvieto, come diceva lei poc'anzi, può vantare tre attaccanti importanti, una regista comunque di esperienza e di categoria, una squadra che ha conquistato dieci punti nelle otto partite disputate perché ha già osservato il turno di riposo così come il volle soverato, quindi una squadra come si suol dire da prendere con le pinze. Sì, poi dobbiamo dire anche che hanno fatto parecchi punti in trasferta, hanno fatto molto molto bene, perciò lo sappiamo, ecco lo abbiamo già detto, è un'ottima squadra e aspettiamo questo match consapevoli che comunque siamo in crescita anche a livello tecnico, ma anche a livello di gruppo, le ragazze adesso si conoscono, hanno un buon rapporto, si sono creati quegli automatismi anche psicologici che secondo me poi funzionano e possono aiutare nei momenti di difficoltà. Ecco, infine proprio qui che volevo arrivare, alla luce anche della prestazione offerta dalla squadra su un campo ostico come quello del Club Italia, si è potuta vedere una bella prova di squadra sia dal punto di vista del gioco sia anche dei miglioramenti dal punto di vista del gruppo, dell'affiatamento, indice del fatto che questo lavoro graduale di abalgama prosegue e sicuramente è una squadra che ha ancora ottimi margini di crescita. Sì, all'inizio come innegabile ci siamo concentrati più, abbiamo sempre parlato di tecnica, tecnica, tattica, di quello che dobbiamo fare in campo, dopo col passare del tempo siamo passati queste ultime due o tre settimane, abbiamo parlato con la squadra, anche di quello che è un po' l'aspetto psicologico, di quello che è il gruppo e devo dire che a oggi effettivamente effettivamente siamo stati in diversi, abbiamo avuto diversi momenti di difficoltà e ne siamo sempre venuti fuori positivamente, perciò dico che una volta può sembrare un caso, due può sembrare un caso, dopo quattro volte che ti trovi sotto o che ti trovi sotto un set vai a vincere, forse il caso non è più così importante ma è la squadra e sono queste ragazze che hanno qualche merito.